Nel settaggio del percorso fast track o rapid recovery, come vogliamo definirlo, per i pazienti sottoposti ad intervento di protesi di ginocchio e di anca, l'anestesia riveste un ruolo fondamentale, indispensabile. Potremmo dire ad oggi che il ruolo dell'anestesia è quello che ha reso possibile il fast track e quello che ha cambiato il volto del percorso clinico nella protesica di anca e di ginocchio. Ad oggi noi utilizziamo delle spinali short, cioè di breve durata, perché gli interventi chirurgici sono effettivamente rapidi e che vengono associate a dei blocchi periferici, spesso ecoguidati, che permettono al paziente di essere in grado di camminare già nell'immediato postoperatorio, cioè di avere il controllo del tono muscolare, ma di non avere il dolore. Quindi sono delle tecniche anestesiologiche selettive che permettono di eliminare il dolore nel paziente nell'immediato postoperatorio.